Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare la sfida Usa un mulinello alla fortiglia in Fortnite capitolo 2 per quanto riguarda la stagione 3 La nuova sfida in questione è molto semplice, dovete raggiungere questa nuova località chiamata la fortiglia Dove troverete questo mulinello, questa sorta di voragine, di tempesta d'acqua Non so come volete definirla, viene chiamata mulinello, non dovete far altro che utilizzarla Una sola volta è indifferente la modalità, quindi andate qui, nuotate e avete completato la sfida Come potete vedere l'effetto è praticamente questo Quindi una volta fatto questo avrete completato la sfida La posizione della fortiglia è questa qui Potete vedere comunque il mulinello direttamente nella mappa Come potete vedere l'effetto?